Ciao sono Ambra e benvenuti a tutti in questa nuova story time che sarà un po' particolare perché spuntanerò una di voi. Allora, non so molto bene da dove partire con questa story time e in realtà non volevo nemmeno creare una story time ma raccontavo questo episodio e Leonora Manni, vi lascio poi giù il link al suo canale e mi ha dato l'idea di parlarne in una delle nostre story time che è la rubrica che trovate in questo canale dove racconto storie che mi sono accadute più o meno piacevoli. In questo caso oggi ci concentriamo insieme su questa storia che è abbastanza recente e come ho accennato nel titolo e nell'intro riguarda una di voi che possiamo chiamare con un nome fittizio come in ogni caso, il nome che scelgo è Gaia che è un nome che adoro tra l'altro però cerchiamo di riordinare un attimo le idee e cerchiamo di centrare il punto della questione. Allora, non ho screen alla mano della cosa, non ho intenzione di farli per il semplice motivo che la cosa come avrete letto dal titolo riguarda anche il mio fidanzato in particolare il suo profilo facebook che è il luogo dove questa follower misteriosa che noi appunto questo video chiameremo Gaia, l'ha contattato. Non ho intenzione di andare a rileggere quella chat, non so neanche se l'abbia cancellato o meno il mio fidanzato questo insomma era per dirvi che cercherò di raccontarvi il sunto del discorso come me lo ricordo. Lo faccio soprattutto perché spero che questa persona sia in ascolto dato che si definiva una mia grande seguace diciamo così e poi perché questa persona non ha avuto più una risposta, un riscontro e non sapeva che ero io a scriverle. Ora, non ci starete capendo più niente, immagino quindi parto raccontando questa story time. Allora, come molte di voi sapranno, io non ho una pagina facebook pubblica ovvero una pagina di osservatrice scaltra ma ho semplicemente un profilo personale che tra l'altro utilizzo pochissimo e dove tra le mie amicizie ci sono pressoché miei parenti, amici, conoscenti. Questo per dirvi che mi capita spesso in realtà che qualcuno di voi risalga il mio nome e cognome vabbè il nome ve lo dico in ogni intro, ciao sono Ambra! Se non aveste ancora scoperto il mio nome in effetti sarebbe veramente un problema per voi. comunque risalire al cognome non è proprio così automatico ma nemmeno impossibile quindi capita una certa frequenza che alcune ragazze che mi seguono su youtube mi chiedono l'amicizia anche sulla pagina facebook privata. Quindi circa un mese e mezzo fa più o meno, due mesi esagerando capita la richiesta di amicizia di una ragazza come ne erano capitate tante fino a quel momento guardo chi è e chi non è, vedo che abita in un paese molto vicino a me il mio capoluogo di provincia, Massa lo posso dire, io abito in provincia di Massa Carrara non avevamo né amici in comune, io non la conoscevo quindi non ho accettato la richiesta per il semplice motivo che non mi piace avere persone che non conosco su una pagina che cerco di tenere molto ristretta e in qualche modo anche intima profilo, non pagina, pagina non ce l'ho. Bene, fino a quel punto questa Gaia era una persona che mi chiedeva l'amicizia perché magari è uscita nei consigliati eccetera, insomma non ho posto molta attenzione alla cosa era semplicemente una bella ragazza di Massa, morta lì, non ho posto attenzione. Se non fosse che a distanza di circa 20 giorni, esageriamo proprio un mese è una cosa recentissima, ero nello studio con il mio fidanzato qua a casa qua a casa abbiamo creato uno studio dove spesso la sera ci mettiamo a lavorare a volte anche insieme e quella sera stavamo per l'appunto lavorando era abbastanza tardi, avevamo già finito insomma il tutto io stavo rifinendo giusto alcune cose prima di prepararmi per andare a letto quando lui si vede che era un po' stufa, ha fatto un giro dal computer su Facebook quindi apre la schermata di Facebook dal PC, guarda, vede alcune cose in quel momento poi va su Messenger, mi dice che la cugina gli ha mandato delle foto del bimbo di non ricordo cosa e poi mi dice, e in tutto ciò lui era di fronte a me col computer girato mentre io stavo finendo di scrivere alcune cose oh c'è una ragazza che ci sta provando con me, è anche una bella ragazza ed è anche giovane io sapendo che lui scherza sempre su questa cosa, mi prende molto in giro su questo aspetto nonostante io adesso all'interno di questa relazione non sono assolutamente gelosa magari in passato con altri la sono stata perché non ho avuto modo in questa relazione sarebbe veramente sciocco essere geloso da parte mia mi sono fatta una risata, pensavo se lo fosse inventato e a quel punto lui mi dice, no no a parte gli scherzi davvero mi sta tirando bottone una persona che non conosco mi gira il computer e io riconosco a distanza di tempo anche perché è una persona bionda con un taglio di capelli un po' particolare questa Gaia riconosco questa Gaia, guardo i dati e si coincideva con me non gli aveva chiesto l'amicizia a lui ma aveva iniziato a scrivergli su Messenger gli aveva già mandato due messaggi privati a distanza di tempo dei quali lui non si era accorto perché effettivamente ha poco tempo non è sempre su Facebook e in questi messaggi gli diceva ciao ma sei di massa, è possibile che ti ho visto in tal posto alla tal ora cosa tra l'altro che era molto possibile perché il mio amoroso si reca spesso a massa per lavoro e coincidevano anche i luoghi al che mi è venuto un po' male e ricordando però che aveva chiesto l'amicizia anche a me ho fatto due più due e ho detto ma non è che questa è una persona che mi conosce tramite il canale YouTube perché se non abbiamo amici in comune eccetera non ha senso che chieda l'amicizia a me e poi a lui e soprattutto dato che devi fare anche delle ricerche di un certo tipo per capire visto che il mio è un profilo totalmente privato credo qual è il mio amoroso che poi non ricordo nemmeno se le mie foto sono pubblico o private io questa impostazione della privacy non ci bado perché non penso che ci siano persone che ti spiano per vedere chi sono i tuoi affetti nella vita reale oppure si vede che accade tramite YouTube insomma per farvela breve mi sembra molto strano che vada a contattare il mio fidanzato a quel punto chiedo a Stefano il permesso di togliermi questa curiosità gli dico guarda ci scrivo io sono educata non mi metto davvero a fare piazzate di gelosia però voglio un attimo capire come mai questa persona prima chiede l'amicizia a me e poi a te e Stefano da galantuomo qual è? mi dice sì vabbè togliti questa curiosità però poi non insultarla non fare cavolate e soprattutto non darle troppa corda perché non mi va che questa persona pensi che stia parlando con me però dovevo togliermi il cruccio e allora ho iniziato a scriverle a scriverle che sì ero stata in quei post e come mai aveva iniziato proprio a scrivermi com'era risalita a me insomma ovviamente mentre scrivevo mi fingevo lui quella sera questa ragazza non mi rispose mentre la sera dopo controllando appunto la chat messenger del mio fidanzato ho visto che c'era la risposta e lei gli confermava che mi conosce tramite YouTube e con una ricerca su Facebook aveva visto anche lui allora la premessa è che il mio ragazzo non è un modello di Dolce Gabbana è un ragazzo normalissimo non brutto per carità però insomma non è neanche uno di quelli per cui perdi la testa che lo vedi in giro o vedi una foto e ti metti a stalkerarlo su Facebook pur sapendo che ha una relazione che dura da otto anni insomma cribbio poi lo dice anche uno dei dieci comandamenti non desiderare il fidanzato di osservatrice scaltra vabbè ora ci ridiamo su però mi ha dato un po' nell'occhio la cosa ho detto ma che senso ha ma anche fosse il ragazzo più bello che tu abbia mai visto ma ti pare che ti metti a scrivere in privato al fidanzato di un'altra quindi volevo un po' capire meglio e le ho chiesto che cosa volesse da me insomma questa ragazza mi stupisce perché risulta da subito molto intraprendente e mi dice due cose non ricordo in che ordine però intanto se la nostra era una relazione seria e poi mi chiede quando ritorno a massa in che zone sono e io ovviamente mi fingo il maschio etero con i piedi in otto scarpe e lì Stefano mi diceva anche no basta ti provisco di scrivere chiudi blocca questa persona a non scrivere più però l'ho veramente supplicato di farmi continuare il gioco ancora per un pochino perché vi rendete conto dai come potevo fare finta di nulla spegnere tutto come se nulla fosse successo ok io le scrivo che sì è una relazione seria però insomma volevo capire come mai aveva sentito l'esigenza di scrivermi insomma facevo un po' il marpione diciamo così mi riesce anche molto bene una vita precedente dovrei essere stata uomo forse e questa in quella serata mi risponde in diretta era online e mi dice che l'ho colpito meglio il mio fidanzato ha colpito lei che ha questi occhi azzurri bellissimi molto espressivi e che comunque voleva sapere che lavoro faceva perché l'aveva incontrato in un luogo che era riconducibile poi effettivamente al suo lavoro e questa cosa mi urta e insomma per concludere accenna al fatto che si potevano anche vedere lei e lui che poi lui ero io che scrivevo nel caso fosse tornato giù a quel punto Stefano comincia a essere veramente infastidito dal fatto che dal suo profilo privato scriveva un'estranea che poteva anche effettivamente usare quelle chat contro di lui perché è vero che lei si era approcciata a lui probabilmente perché ha conosciuto me ma dice ma io non la conosco sta tizia smettila di scrivere un'estranea a quel punto ho dovuto accelerare i tempi perché giustamente Stefano era molto infastidito che mi fingessi lui e voleva che finissi lì quella buffonata e al che però le ho scritto sì guardaci mai ci possiamo rivedere ci incontreremo una cosa gliel'avevo buttata giù in modo che volevo proprio avete presente quando lanci l'amo al pesce lei ha boccato e mi dice sì però come facciamo a trovarti ti lascio il mio numero di telefono e io rispondo ancora sì però sicuro che se ci vediamo la cosa rimane tra noi posso fidarmi so che segui la mia fidanzata sei una fan lei si era dilungata un pochino effettivamente dicendomi che era una fan eccetera eccetera e a quel punto questa ragazza risponde che di me non gliene frega un cavolo e che avrebbe piacere a vedersi anche di nascosto per fare quattro chiacchiere conosceci meglio che comunque l'aveva colpita eccetera eccetera e comunque il fatto che lui andasse per lavoro in un'altra città lontano dagli occhi lontano dal cuore mio era un'occasione d'uso molto pratica insomma la story time è finita qua Stefano dopo che ha visto che questa mi ha dato un numero ha fatto certe allusioni si è quasi arrabbiato con me ma ha ragione lo potevo capire mi ha detto senti ora la blocchi chiudi perché non voglio problemi io non so chi è questa persona non ho voglia di apparire come quello che non è cosa che lei non sa ancora spero lo sappia tra l'altro tramite questo video dite tutti ciao a Gaia scrivete qua sotto ciao Gaia se ci stai guardando e questa storia ve l'ho raccontata non perché vi faccia ridere granché perché sappiate che ci sono persone che pur di fare un dispetto magari a voi che avete un fidanzato anche se non gliene frega niente del fidanzato ci provano per mettere quasi a dura prova la relazione per magari affermarsi come super donne che riescono a ottenere le attenzioni anche di un uomo o di un altro questa ragazza ci ha provato evidentemente per avere una sorta di rivalità femminile io riesco di nascosto ad entrare in contatto con il tuo fidanzato insomma non so quale dinamica perversa strana ma comunque veramente poco dignitosa poco rispettosa non tanto della relazione che hanno due persone ma anche di se stessi abbia preso forma nella mente di questa ragazza ma sappiate che sì ci sono anche donne di questo tipo tra l'altro lei non conosceva il mio fidanzato l'aveva visto di sfuggita se è vero quello che scriveva ma sicuramente i posti con i luoghi coincidono però l'aveva visto solo di sfuggita pensate voi invece magari quanti pericoli noi donne magari sul posto di lavoro in treno in qualsiasi parte ci può essere la gaia di turno che non perché è veramente interessata o infatuata al vostro marito o al vostro fidanzato può arrivare a provarci con lui magari solo per avere la conferma che può sedurre o attirare le attenzioni dell'uomo o di un'altra donna quindi è una sorta di competizione malata e perversa di ricerca di questa sicurezza che probabilmente la persona in questione nemmeno ha ecco questo è un po' il punto del ragionamento ed è stato lo spunto che oltre a avermi fastidito più degli altri mi ha anche molto fatto riflettere su questa tipologia di donna di cui purtroppo secondo me siamo pieni bene ragazzi questo più o meno era tutto io spero di avervi tenuto compagnia ma soprattutto ditemi se vi è capitato qualcosa di simile sono sicura che vi sarà capitato vi ringrazio per essere state in mia compagnia come al solito ci vediamo alla prossima non scordate di starmi bene un bacio un bacio un bacio un bacio